Ciao bambini e benvenuti in questo nuovo video! Oggi apriremo insieme una super valigetta di Alvin e i suoi amici con all'interno tantissime sorprese e anche una mini busta sorpresa di Bing e entrambe le trovate in edicola Ho caspita in evisto polpetta due buste a sorpresa una di Alvin e una di Bing chissà che cosa c'è all'interno Oh hai proprio ragione Pilù sono super curioso quindi che ne dici iniziamo subito e iniziamo dalla valigetta di Alvin che bello è enorme hai proprio ragione polpetta è davvero enorme e adesso l'apriamo subito ecco qui la valigetta apriamola e tiriamo subito fuori tutto il contenuto Oh caspita era piena di riviste dobbiamo assolutamente sfogliarle tutte iniziamo dalla prima la prima rivista è enigmistica oh caspita questa è per i bimbi un po' più grandi perché all'interno ci sono giochi per i bimbi che sanno già leggere e scrivere e qui si impara davvero tantissimo ci sono i cruciverba e poi anche qualche gioco un po' più semplice guardate che bello è piena piena di giochi e di cruciverba qui bisogna trovare le parole oh caspiterina guardate che bello impariamo anche le parti del corpo ci sono tantissimi giochi molto molto utili per imparare oh qui dobbiamo anche trovare le differenze che bello questa rivista devo dire che è molto utile e interessante andiamo avanti e troviamo l'album da colorare con il pennarello magico di Alvin apriamolo all'interno troviamo un album pieno di disegni qui abbiamo Simon Jeanette Theodore ed Eleanor oh caspiterina Alvin e Brittany ci sono proprio tutti i nostri amici e con un unico pennarello possiamo colorare tutti quanti i disegni è infatti il pennarello magico guardate quanti colori con un unico pennarello questo è super divertente e soprattutto all'interno ci sono disegni originali di Alvin oh caspiterina ha proprio ragione è super divertente soprattutto perché con un unico pennarello possiamo colorare tutti i nostri disegni oh andiamo avanti ci sono ancora tante riviste Pilu ha proprio ragione ci sono ancora tante riviste come ad esempio questa l'album dei colori e degli sticker vediamo un po' com'è all'interno oh caspita qui abbiamo proprio un album dove attaccare gli sticker e ogni pagina è da colorare o da completare in base ai giochi qui impariamo le forme oh c'è anche Simon qui impariamo a disegnare insieme a Jeanette e qui abbiamo il nostro Theodore al centro poi della rivista troviamo un super poster da staccare e attaccare nella nostra cameretta e poi abbiamo gli sticker con i quali possiamo completare la nostra rivista devo dire che sembra fatta davvero molto bene ed è soprattutto divertente perché possiamo colorare e completarla con gli sticker è davvero super bella ci sono tantissimi tantissimi giochi e attività diverse infine troviamo le soluzioni oltre a questa ne abbiamo anche un altro anche questo è l'album dei colori con gli sticker vediamo un po' cosa abbiamo all'interno ancora tantissimi giochi e tantissime pagine da colorare e da completare con gli sticker qui oh sport che passione che bello e anche qui troviamo un poster da staccare e da attaccare nella nostra cameretta e al centro eccoli qui gli sticker sempre super colorati e divertentissimi e poi andiamo avanti qui scopriamo alcune sezioni dove possiamo giocare e attaccare gli sticker wow è super divertente alla ricerca di Theodore solo dopo aver completato il percorso dobbiamo attaccare lo sticker che bello ma caspiterino all'interno di questa valigetta c'erano tantissime cose l'enigmistica abbiamo trovato l'album da colorare con il pennarello magico e due album di colori e sticker troppo divertente che bello e sono tutte da scoprire io adoro le valigette sorpresa ma adesso dobbiamo aprire quella di Bing vero? e già Pilu perché non abbiamo finito manca ancora la busta sorpresa di Bing è piccola ma all'interno ci sono tantissime sorprese mettiamo da parte le riviste di Alvin e prendiamo la busta di Bing adesso andiamo ad aprirla ecco fatto apriamo la busta di Bing caspiterina l'ho strappata tutta e tiriamo fuori tutto il contenuto vediamo un po' che c'è all'interno oh caspita oh mamma mia non posso crederci all'interno c'è l'album delle figurine di Bing è un peccato che la busta sia piccola e quindi l'album è stato piegato ma vediamo un po' com'è infatti si è un po' rovinato è davvero un peccato sarebbe meglio metterlo all'interno di una busta sorpresa un po' più grande perché così si rovina tutto l'album ed è piegato caspiterina però devo dire che è fatto davvero molto bene ovviamente in ogni pagina ci sono le varie sezioni per attaccare le nostre figurine e ogni pagina è divisa che bello guardate è divisa per argomento qui abbiamo il frullato e quindi abbiamo i vari frutti qui invece abbiamo la torre oh e qui c'è l'alfabeto non solo possiamo attaccare le nostre figurine ma nel frattempo possiamo anche imparare questa invece è la sezione nascondino e qui la sezione torta poi la sezione regalo ce ne sono tantissime guardate quante pagine ha questo album è davvero bellissimo peccato proprio che si sia rovinato averlo messo in una busta così piccola ha fatto sì che la copertina sul retro sia rotta è davvero un peccato ma adesso queste invece sono tutte le figurine che abbiamo trovato all'interno sono tantissime e proviamo adesso ad aprirne qualcuna vediamo un po' qui abbiamo queste che belle queste figurine abbiamo Bing oh le maracas qui c'è ancora Bing Bing insieme a Sula, Amma e Flop e qui abbiamo Bing e Coco apriamone ancora vediamo un po' sono super curiosa infatti ne attacchiamo qualcuna all'album vediamo un po' qui abbiamo Bing e Coco ancora Bing Pando oh il sottomarino oh qui Bing sta facendo il bagnetto apriamo ancora un'altra busta vediamo un po' chi si nasconde all'interno di questo pacchetto un gelato buono Bing insieme a un micetto Bing gioca insieme a Coco oh questa l'abbiamo trovata prima e qui abbiamo Sula e Amma davvero divertente proviamo ad attaccarne qualcuna all'interno dell'album oh caspita ma che belle queste figurine su forza attacchiamole nell'album sono troppo curioso ok polpetta iniziamo dalla figurina numero 97 andiamo a cercare la sezione giusta per questa figurina oh 78 vediamo un po' oh deve andare proprio qui esattamente qui il numero infatti corrisponde quindi andiamo subito ad attaccare la nostra figurina ecco fatto e adesso attacchiamola proprio qui vediamo se per caso abbiamo trovato l'altra metà della figurina quindi la 96 vediamo un po' se c'è qui in mezzo così almeno la completiamo qui abbiamo la 92 ma la 96 non la trovo proprio no deve essere in uno dei pacchetti ancora ad aprire nel frattempo attacchiamo la 92 che va attaccata proprio qui quindi togliamo la pellicola alla nostra figurina e l'attacchiamo esattamente qui adesso andiamo ad attaccare questa con Bing che gioca con Coco è la numero 143 cerchiamo la sezione giusta per questa figurina eccola è proprio qui vediamo la figurina fa parte della sezione hula hop che bello ecco fatto adesso attacchiamo la nostra figurina che bello il nostro album pian piano si riempirà di figurine fino a che non lo completeremo tutto troppo divertente hai proprio ragione che bello l'album di Bing ho sempre desiderato comprarlo in edicola ma non l'ho mai trovato e adesso finalmente con questa busta ce l'ho che bello io e Pelu ci divertiremo un mondo a riempirla di figurine anche perché mancano ancora tanti pacchetti da aprire troppo divertente adoro le sorprese ed eccoci qui bambini questo era quello che abbiamo aperto oggi la busta sorpresa di Bing con all'interno l'album e le figurine e la valigetta di Bing con tantissime riviste e anche l'album da colorare con il pennarello magico devo dire che queste due buste mi sono piaciute molto sono troppo divertenti bene bambini se anche a voi questo video è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccando qui e per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti cliccate qui noi ci vediamo in un prossimo video ciao bambini